www.malizopoli.it Questo è un piccolo punto del quarto rapporto di Asso Gestioni Censys presentato dal Senato dell'Esparmio e gli esparmiatori oltre la crisi. Il credere di sapere, la presunzione di sapere, quindi la presunzione di sapere fa fare rischi, così portare a casa dei rischi come fare scelte finanziarie sbagliate. Il 40,2% di chi è convinto di possedere adeguate conoscenze finanziarie ha sperimentato perdite sui propri investimenti rispetto al 29% di chi pensa di non avere adeguate conoscenze in materia. L'eccesso di fiducia nelle proprie competenze porta ad abbassare la guardia e ad esporsi di più. Tra chi pensa di possedere ottime e buone conoscenze finanziarie, il 14,3% è pronto a prendersi alti rischi per ottenere subito rendimenti elevati rispetto al 7,9% di coloro che pensano di non avere sufficienti competenze. Come diciamo noi, conoscere per decidere. Se vuoi saperne di più, io sono Maurizio Poli, educatore consulente finanziario, qui la mia mail e i miei contatti. Conoscere per decidere.